Per noi questa è una delle giornate più importanti dell'anno. Ricordiamo il peregrinaggio di Andrea Soffer con Seccetto Susten nel 1809 in previsione delle battaglie di fine anno qui proprio a San Romedio. Per noi Offer è anche una persona che identifica anche l'autonomia e l'appartenenza del territorio. Cioè lui ha combattuto per difendere la libertà di un popolo di vivere secondo le proprie tradizioni e secondo la propria storia proprio credo. Credo che sia una persona importante che possa anche fare il riferimento oggi come i valori che portava anche per creare un futuro migliore per i nostri figli.